Siamo in collegamento con l'onorevole Valentina Aprea che è la capogruppo di Forza Italia alla Commissione Cultura della Camera eh senti onorevole allora al Senato il lavoro sul decreto trentasei è terminato proprio eh questa notte eh il relatore era proprio il vostro senatore Cangini e tu hai già fatto un comunicato per ringraziare anche pubblicamente il lavoro fatto dal relatore quindi secondo voi le cose sono andate bene per lo meno dal vostro punto di vista eh ringrazio tecnica della scuola sempre puntuale eh ed è vero confermo eh io ho ringraziato il relatore Cangini che ha saputo eh mediare eh tra eh le posizioni anche distanti della maggioranza e comunque complessivamente del delle forze politiche eh in particolare eh noi siamo molto soddisfatti per le modifiche che abbiamo apportato che abbiamo richiesto e ottenuto condivise poi da tutta la maggioranza mi riferisco innanzitutto alla formazione iniziale che vede per la prima volta il percorso ehm di laurea eh affiancato abbinato al 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 corso al percorso abilitante quindi per la prima volta eh sarà possibile formare una nuova generazione di docenti laureati e abilitati in cinque anni per noi questo era dirimente abbreviare e per la formazione di nuovi docenti ehm noi avremmo preferito per la realtà una maggiore una maggiore flessibilità nell'acquisizione dei sessanta crediti fin dal a partire dal laureato annale questo sarà possibile solo se le università lo vorranno fermi appunto tenendo conto dei margini di flessibilità nei dei piani di studio comunque in cinque anni avremo docenti laureati e abilitati e abbiamo hm chiesto e ottenuto l'introduzione del profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato questo vale per tutti i passaggi della formazione dei nuovi docenti è importante perché non si tratta solo di formare genericamente i docenti noi dobbiamo abilitarli alle nuove sfide io dico sempre del terzo millennio ma diciamo di questi anni alle nuove sfide quindi cosa significa essere docenti abilitati all'insegnamento nel 2022 nel 2030 nel 2050 questo ce lo dirà il profilo che terrà conto evidentemente dell'informatica e delle quindi delle competenze digitali delle inglese delle competenze pedagogiche delle skills tutto quello che sapete che voi discutete tutti i giorni che hanno a che fare con l'attualità della professionalità del docente abbiamo scusa ti interrompo solo su un punto eh per avere un approfondimento da parte tua ehm c'era molta attesa su un aspetto che probabilmente poi alla fine è rimasto un po' in ombra cioè il tema della carriera degli insegnanti eh che cosa ne è venuto fuori alla fine? Arrivo allora intanto lasciami dire ancora che ehm sono state previste delle riserve eh per i percorsi abilitanti in prima applicazione per i docenti delle scuole paritarie che eh sono in servizio ma che non hanno l'abitazione per i docenti dell'istruzione e formazione professionale e per i precari storici è stato previsto comunque un percorso più abbreviato ancorché universitario e noi abbiamo poi eh molto insistito sull'aspetto che tu ricordavi la carriera del docente ma e avevamo anche presentato degli emendamenti che andavano in questa direzione con tre livelli eh nella carriera del docente non è stato accolto questo eh emendamento questi emendamenti non sono stati accolti perché il ministro dell'istruzione in questo caso ha specificato che l'Europa chiedeva formazione e valutazione dei docenti siccome questo è un è un provvedimento il PNRR che comunque vede un inizio e una conclusione del 2026 era necessario individuare due aspetti della professionalità docente misurabili entro un tempo breve quindi non la carriera allora però abbiamo ottenuto e siamo molto soddisfatti eh del eh la eh nella formazione in cosiddetta incentivata eh la eh presenza di figure che io chiamo del middle management poi qui si chiamano altamente professionali a sostegno dell'autonomia e della dirigenza ma che vanno proprio nella dire nella direzione di creare profili intermedi tra il docente che insegna soltanto e il docente che invece fa tutto raggio eh che fa eh altre funzioni eh che hanno a che fare con la pianificazione delle attività e con specializzazioni particolari che sono devo dire precisamente indicate nel decreto. Naturalmente ehm qui c'è il problema che tutto questo dovrà essere affidato e svolto dalla scuola di alta formazione che non c'è quindi ehm speriamo che eh nasca presto insomma che non si allunghino i tempi per questo e poi se posso dirti c'è un peccato originale perché anche noi vediamo che nel decreto comunque e qui devo dire che il relatore si è speso moltissimo la commissione del senato moltissimo anche noi che dalla camera abbiamo eh eh come vi è seguito i lavori il problema delle coperture questo è il vero peccato originale. Veniamo veniamo proprio a questo punto perché è una delle questioni sulle quali anche i sindacati ovviamente hanno fatto un po' di un po' di hanno hanno messo in atto anche un po' di proteste c'è stato anche uno soffro il 30 maggio proprio su questo ecco che cosa che cosa puoi dire tu a questo punto? Allora parlo di peccato originale perché questa copertura era prevista nella prima versione del decreto quindi quella approvata dal Consiglio dei Ministri che prevedeva appunto eh formazione a seguito di tagli del personale o perlomeno della diminuzione degli organici, riduzione degli organici. Purtroppo noi avevamo invece trovato altre formule anche più interlocutorie eh che ehm parlavano di innanzitutto di rilevazione dell'andamento demografico eh di monitoraggi e poi eventualmente di recupero di finanziamenti che venivano ehm ehm appunto eh eh diciamo eliminati con i tagli. Avevamo parlato di scatto anticipato eh del salariale a fronte di un percorso di formazione tutto cancellato nella notte non prima degli esami prima dell'approvazione con un colpo mancino qui lo devo dire eh del MEF eh nella notte prima dell'approvazione eh è ritornata la copertura finanziaria legata al ai ai alla diminuzione di organico non li vogliamo chiamare tagli ma comunque diminuzione di organico quindi a partire dal duemila ventisei ventisei ventisette si potranno investire finanziamenti per la formazione incentivata solo a seguito di risparmi che verranno effettuati con la riduzione degli insegnanti degli organici sia di diritto che dell'autonomia si tratta devo dire che si tratta di diminuzioni si tratta anche di un limite cioè oltre il quale al di sotto del quale non si andrà però oggi ci suona male che noi dobbiamo aspettare il duemila e ventisei per iniziare ad avere eh formazione incentivata però la formazione dura tre anni va bene io avrei visto anche bene formazione annuale se deve coinvolgere tutti ma comunque formazione triennale con eh eh con compensi forfettari per questa formazione eh eh incentivata che verranno stabiliti solo successivamente alla riduzione degli organici ecco mi sembra eh comunque un brutto segnale che mandiamo alla scuola italiana invece tutto il resto può eh poteva e può essere veramente eh una 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 svolta perché si parla di nuova formazione iniziale di nuovo di nuova formazione iniziale di nuovi nuova modalità di selezione e soprattutto di formazione continua incentivata alle nuove sfide di questo secolo senti a proposito della formazione continua una delle critiche più pesanti eh che arrivano dal mondo sindacale non solo eh riguarda il fatto che qualcuno dice ma in questo modo eh sarà una formazione come dire diretta dall'alto gli insegnanti dovranno eh aggiornarsi e formarsi su quello che vogliono i piani alti quindi in sostanza verrà limitata di molto la libertà di insegnamento. Cosa ti senti di rispondere a questa critica anche piuttosto pesante? Allora io rispondo che eh il parametro sarà il profilo delle competenze complesse e conclusive eh del 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 profilo conclusivo delle competenze professionali del docente ad ogni fase della formazione da quell'iniziale alla selezione alla formazione incentivata quindi è semplice il discorso ce le hai le competenze per insegnare nel terzo millennio? No se non ce le hai ti devi formare non è dall'alto è una questione di modernizzazione del profilo cioè dobbiamo eh andare avanti rispetto alle competenze che pure i docenti hanno insomma non basta solo insegnare essere competenti nella propria disciplina oggi non basta non basta più questo certamente condizione necessaria ma non sufficiente quindi il parametro sarà il profilo e poi invece vedo molto il ruolo della scuola perché la scuola ricordiamoci che il che la valutazione finale la valutazione la valutazione finale sarà data dal dal comitato di valutazione delle scuole quindi c'è qualcosa di di veramente di molto molto vicino al docente senti tu conosci il mondo dalla scuola anche dall'interno da lunga lunghissima data quindi tu per esempio hai conoscenza diretta della scuola della dell'autonomia di quando anche è nata negli anni 90 secondo te questo provvedimento il decreto 36 sostiene l'autonomia va nella direzione dell'autonomia la contrasta o che cosa se si farà tutto quello che abbiamo scritto sì purtroppo io ho visto lo sai lo sapete che ho tanta esperienza delle bellissime riforme che poi non hanno trovato attuazione se questa volta ci impegniamo ad attuare davvero quello che c'è scritto soprattutto con riferimento alle nuove figure alle figure di sistema la formazione iniziale al ai tirocini ai tirocini diretti e indiretti quindi per la formazione dei docenti tra l'altro noi abbiamo chiesto noi di forza italia chiesto ottenuto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso oggi sono 120 per l'accesso ai ruoli attraverso la razionalizzazione il loro accorpamento proprio al fine di promuovere interdisciplinarità multidisciplinarità dei profili professionali innovativi ecco se superiamo tutto questo se andiamo verso una figura più del docente più tutor più coach più capace di di progettare capace di di anche accompagnare i ragazzi nello studio e non soltanto di impegnarli nelle lezioni frontali si può essere di svolta sento di dire che può essere di svolta però occorrono ecco occorre prendere alla lettera tutto quello che c'è scritto 30 secondi finali quindi secondo te non è soltanto una questione di risorse ma è anche una questione come dire culturale cioè di cambiamento anche degli schemi è così proprio così e degli schemi a cominciare dagli ambienti educativi e dall'organizzazione dei gruppi di studenti che non possono essere più le classi di diciamo di vecchia memoria e quelle delle degli eserciti fatte soltanto in base all'anno di nascita e l'organizzazione e che segue un'organizzazione fortista se ci lasciamo alle spalle tutto questo possiamo sicuramente accogliere le sfide e superare l'emergenza che sono tantissime noi lo sappiamo con riferimento soprattutto e ne dico solo una di emergenza alle alla dispersione esplicita ed implicita quindi sia con riferimento a quelli che lasciano abbandonano gli studi sia quelli che li concludono e non hanno le competenze necessarie. Quindi come hai detto nel tuo comunicato proprio subito dopo il voto potrebbe essere una svolta importante per il sistema scolastico italiano. Sì. Bene quindi ti ringraziamo e alla prossima alla prossima chiacchierata. Grazie. Grazie Reginaldo Tecnica della Scuola. Grazie sempre. A presto.